Nel cinquantenario della morte di Totò è dedicata proprio al principe della rissata la diciottesima edizione del Festival del Cinema Europeo presentato oggi a Roma dal 3 aprile a Lecce. Rossella Matarese. Chi si ferma è perduto. Sarà il film dell'immenso Totò a inaugurare la diciottesima edizione del Festival del Cinema Europeo a Lecce il 3 aprile. Un'anteprima mondiale per la pellicola restaurata dalla Cineteca di Bologna e la Titanus, storica casa di produzione del film firmato da Sergio Corbucci. Ricchissimo il programma della manifestazione con tre registi di punta del panorama europeo tiene a sottolineare il direttore artistico del Festival Alberto Lamonica. Saranno ben tre i protagonisti del cinema europeo di questa edizione. La polacca Agnieszka Holland che verrà a Lecce incontrerà il pubblico dopo la proiezione del suo ultimo film che era in concorso a Berlino. Il turco Nuri Bilge Jeylan che condurrà anche una masterclass aperta e sarà moderata da Felsa Norvitek di cui presentiamo la retrospettiva completa. E l'illustre Stephen Frears che verrà a Lecce in chiusura del Festival. A ricevere l'ulivo d'oro alla carriera saranno anche Isabella Ferrari, Valerio Mastrandrea e Francesco Maselli. Un programma serratissimo quello in scena al multisala massimo dal 3 all'8 aprile. 16 i paesi europei presenti e la giuria preseduta dalla produttrice dell'European Film Award Marion Doring. Ma non c'è solo la competizione, decine di lungometraggio e documentari nelle sette sezioni della manifestazione. E poi gli incontri e workshop con i protagonisti della mostra che assegnerà anche i riconoscimenti per l'ottava edizione del premio Mario Verdone.